La festa della birra Baronissi, al di là delle opportunità politiche ed etiche della manifestazione, l'opposizione chiede una rivisitazione, un cambio della location scelta per la manifestazione. Sì, abbiamo appreso di questa iniziativa e diciamo la prima cosa che vogliamo dire a tutti, innanzitutto alle autorità comunali e anche agli organizzatori e promotori e ci sembra poco opportuno organizzare un'amministrazione del genere dove è presumibile l'arrivo di tanti giovani, giovanissimi, probabilmente, speriamo di no, anche di qualche piccolo gruppo, semmai di persone difficilmente controllabili, che l'iniziativa si faccia nel parco più bello, ma anche più delicato, più fragile che abbiamo, che è il parco del Ciliegio, che è un intarsio di marmi, di fontane, di fontane che partono dal terreno, insomma è un parco così amato da tutti i cittadini di Baronissi, io credo che sia assolutamente contraddittorio quando poi nella nostra città, nella nostra cittadina esiste adesso una zona che è l'area mercato, amplissima, dove si è venuto per esempio ad esibire Rocco Ant, proprio durante la competizione elettorale c'era tanta gente che potrebbe ospitare fiere, potrebbe ospitare gare anche di carattere motociclistico, potrebbe ospitare tutto perché giustamente è un'area libera di cemento e asfalto dove anche se Giovanni Moscatello butta per terra una bottiglia al massimo rischia di farsi male lui col vetro, ma certamente non danneggia il patrimonio pubblico, invece in questo caso c'è un grave danno che si può arrecare al patrimonio pubblico. In secondo luogo a titolo personale, lo dico perché mi sono espresso in questo senso anche negli anni precedenti e ci tengo a una mia coscienziosa coerenza, io credo che oggi i giovani non abbiano bisogno di questi messaggi, abbiano bisogno invece di essere, specialmente associazioni culturali, specialmente associazioni che fanno volontariato dovrebbero veicolare valori ben diversi, non possono secondo me organizzare feste della birra perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Salute hanno diffuso linee guida non solo dati allarmanti, molto allarmanti, ma linee guida che impegnano tutte le istituzioni italiane e anche mondiali per quanto riguarda l'Organizzazione Mondiale della Sanità a combattere la piaga, possiamo chiamarla così, la chiamata così anche Papa Francesco, la piaga dell'alcolismo tra le giovani di generazione. Quando intendo giovani, intendo giovani, giovani, perché qua non parliamo di persone che hanno 30 anni, che ha 30 anni, uno ha già una certa maturità, se vuole fare un bicchiere in più, facesse che caspita vuole lui. Qua parliamo di ragazzini, perché un ragazzino, io sono un papà e penso che come me e tanti altri papà siano preoccupati anche di dare, per quello che possiamo, forse ci riusciamo poco, forse ci riusciamo male, ma cerchiamo di farlo, di dare un buon esempio ai nostri figli. Un ragazzino piccolo deve avere dei miti positivi, deve avere il mito positivo del cantante rap che canta la protesta, deve avere il mito dell'attore che incarna un certo ideale eroico, deve avere la squadra del cuore, però senza fare violenza allo stadio. Queste sono le cose che noi dobbiamo dire a un ragazzino o a una ragazzina di una certa età. Non certo organizzare a nome di un'associazione di volontariato una festa che alla fine si intitola festa della birra. Dice ma noi anche se facevamo la festa della cioccolata, può darsi che qualche bicchiere di vino o qualche birra la vendevamo? Sì, ma non è la stessa cosa, perché lo capisce anche, penso, chiunque, che non è proprio la stessa cosa. Quindi noi invitiamo, oltretutto io ho parlato anche con alcuni amici, perché all'interno dell'associazione ci sono tante persone per bene, io stesso ho la tessera onorale dell'associazione da tanti anni, ritengo sia uno sbaglio, sia un errore. Non so nemmeno se il comune ha dato meno il patrocinio, se lo ha dato invito il sindaco a ritirarlo, perché, ripeto, un ente pubblico non lo può fare e faccio un esplicito invito, anzi domani scresso, o meglio dopo domani, lunedì, che non voglio occupare e disturbare la domenica di nessuno, invierò una lettera mia personale a tutti i parroci, al frate Guardiano, a tutte le associazioni culturali di Baronissi, alla Prologo, a tutti quelli che sono stati sempre così attenti ad ogni stormile di fronda negli anni passati e vediamo se sono attenti anche adesso, anche adesso che forse sono un po' cambiate le cose. La coscienza non dovrebbe essere, come dire, volatile come l'umore o sottoposta a cambiamenti di vento come può capitare in alto mare, e insomma la coscienza dovrebbe essere capace di mantenere degli orientamenti solidi, che fanno parte di un sistema di valori. Noi, io, Sabato Ingino, Alfonso Farina, tutti gli amici, Giovanni Landi, Loretta, ma non soltanto i consiglieri nostri, tutte le nostre liste, tutta la nostra associazione e credo, credo migliaia di cittadini, veramente credo migliaia di cittadini, perché se ricordo quello che ci fu l'anno scorso con addirittura delle targhe che ci furono consegnate, dei premi che ci furono consegnati da parte di associazioni che si battono seriamente contro la diffusione dell'alcolismo, io penso che noi abbiamo insieme a noi tante tante persone che sono sensibili a questi temi e le invitiamo tutti quanti a mobilitarsi per far sì che si affermi una cultura diversa. Ripeto, questo nel massimo rispetto dell'iniziativa di un'associazione, perché l'associazione, io ho fatto la battuta a questi amici e la faccio anche qui davanti alla televisione, dico se voi facevate la festa della cioccolata, credo, ma non lo dico per fare una battuta scherzosa, che avreste avuto più successo, perché io ho partecipato alla festa della cioccolata a Perugia, c'erano forse 30.000, 40.000 persone, perché la cioccolata è un prodotto buonissimo, del resto legato al territorio, perché la Nutella viene a comprare tonnellate di noccioline nelle nostre zone e avreste fatto una cosa probabilmente graditissima a tanti bambini e anche a tanti adulti golosi e non avreste fatta una cosa invece che, come dire, dà un'immagine brutta. Poi, se ci sono questioni soltanto di tipo, ma non lo voglio nemmeno pensare, soltanto di tipo, come dire, attente soltanto a fare qualche soldino in più, eccetera, eccetera, vabbè, di questo si occuperà la Guardia di Finanza.